e siamo giunti a Luca 19. Leggiamo i primi dieci versetti. Entrato in Gerico attraversava la città ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fratta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano, è andato ad alloggiare da un peccatore, ma Zaccheo alzato si disse al Signore, ecco Signore io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche egli è figlio di Abramo, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cosa significa salvezza? Essere salvo indica l'integrità. Integro è qualcosa di intero, qualcosa cui nulla è stato tolto, cui tutto appartiene. L'integrità è il ritorno allo stato iniziale di totale luce, lo stato cui la piccola anima è. La luce è chiarezza, comprensione e coerenza. E passiamo ai versetti 11-28. Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare. Chiamati dieci servi consegnò loro dieci mine dicendo impiegatele fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasceria a dire non vogliamo che costuivenga a regnare su di noi. Quando fu di ritorno dopo aver ottenuto il titolo di re fece chiamare i servi ai quali aveva consegnato il denaro per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò al primo e disse signore la tua mina ha fruttato altre dieci mine. Gli disse bene bravo servitore poiché ti sei mostrato fedele nel poco ricevi il potere sopra dieci città. Poi si presentò il secondo e disse la tua mina signore ha fruttato altre cinque mine. Anche a questo disse anche tu sarai a capo di cinque città. Venne poi anche l'altro e disse signore ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto. Avevo paura di te che sei un uomo severo e prendi quello che non hai messo in deposito. Mieti quello che non hai seminato. gli rispose dalle tue stesse parole ti giudico servo malvagio sapevi che sono un uomo severo che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi i presenti toglietegli la mina e datela a colui che ne ha dieci. Gli risposero signore ha già decimine vi dico a chiunque ha sarà dato ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose Gesù proseguì davanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Tratteremo approfonditamente questo passo nel Vangelo di Matteo. Gesù Cristo pone l'accento su alcuni punti interessanti. Il primo è il concetto di dare. Quando ci viene consegnato qualcosa dobbiamo valorizzarlo moltiplicandolo e redendolo utile alla comunità. Ognuno riceve in relazione le proprie capacità di responsabilità. Chi riceve di più è perché ha insite in sé le potenzialità per valorizzare quella quantità. Chi riceve poco deve ancora sviluppare una grande responsabilità e all'inizio necessita di lavorare per imparare. Il rifiuto di farlo comporta il togliere anche quello che gli è consegnato. Un altro punto è quello del divenire re. Chi ha grandi poteri è spesso attaccato da chi è incapace di ottenerli e cerca di distruggerlo perché è in difficoltà a mantenere l'energia elevata. Chi va contro si crea i presupposti per essere eliminato. Nulla va mai contrastato. Al massimo si gira a favore di un obiettivo comune. Proprio come nelle arti marziali si utilizza l'energia di attacco dell'avversario per sé. E passiamo ai versetti 29 38. Quando fu vicino a Betfage e a Betania presso il monte detto degli olivi inviò due discepoli dicendo. Andate nel villaggio di fronte entrando troverete un puledro legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà perché lo sciogliete direte così. Il Signore ne ha bisogno. Gli inviate andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano il puledro i proprietari dissero loro. Perché sciogliete il puledro? E si risposero. Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava stendevano i loro mantelli per strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli olivi quando tutta la folla dei discepoli esultando cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che aveva veduto dicendo. Benedetto colui che viene il re nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Questi argomenti sono già stati trattati nel Vangelo di Marco. Luca però parla di un puledro, Marco di un asinello. Il puledro rappresenta l'inconscio, le pulsioni allo stato primordiale. L'inconscio qui è ancora da codificare. Inoltre come il cavallo adulto, il puledro è simbolo di elementi indispensabili all'uomo nella sua realizzazione, come dimostrano i tanti esempi della fedeltà dell'animale e l'instancabilità quando sono a servizio dei cavalieri. Anche in questo caso il puledro è pronto a rendere servizio. Versetto 39 e versetto 40. Alcuni farisei tra la folla gli dissero, maestro rimprovere i tuoi discepoli, ma egli rispose, vi dico che se questi taceranno grideranno le pietre. Una missione elevata fa parlare e ogni cosa si impregna di quell'energia potente. Possono anche tacere gli uomini, gli oggetti dell'ambiente emaneranno comunque quella vibrazione. Versetti 41-44. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trince e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. In questo passo del Vangelo troviamo un Gesù Cristo che esterna le proprie emozioni. È consigliato esprimerle e mai reprimerle, perché la repressione genera patologia. Il cuore diviene triste e lui piange. Il pianto è l'espressione della contrazione del campo magnetico in difesa di attacchi forti dall'esterno dai quali ci si deve difendere. Al contrario la risata allarga il campo magnetico e apre il cuore. La pace è uno stato straordinario in cui tutto è armonia e prosperità, come avviene in natura. Alcune città come Gerusalemme sorgono su punti energetici molto potenti, a volte con energie contrastanti e si alternano momenti di splendore a momenti di odio. Le vibrazioni cambiano in relazione agli influssi del terreno e alle energie medie degli abitanti. spesso energie troppo potenti del terreno in relazione a basse vibrazioni umane generano distorsione della realtà, ponendo filtri agli eventi che si presentano. Versetti 45 e 48 Entrato poi nel tempio cominciò a cacciare i venditori dicendo sta scritto la mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio, i sommi sacerdoti e gli iscrivi cercavano di farlo perire e così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. E anche questi sono argomenti che abbiamo già trattato nel Vangelo di Marco. Grazie a tutti.